e' il trap ragazzi vedete io sto occupando la regione lombardiana mi posso muovere tu dove sei? che ti sento? si ho? No, no, non ce l'ho. Io sono qua, non posso. Ciao. Riccardo, Riccardo, mi ne vieni a un'altra persona, non vogliono far pagare le firmatelle di contatto per il primo e per l'USB sul famoso assegno personale di possibilità. Siamo pronti? Continua l'occupazione della Commissione Terza della Sanità da parte di un unione sindacale di base, di cui non ci muoviamo, abbiamo chiesto di incontrare la stampa, è un bellissimo posto, ci sono delle poltrone comode, ci apprestiamo a passare la notte praticamente, sperando che qualcuno ci porti del cibo. Comunque siamo qui per chiedere nuovamente il rinnovo del contratto di lavoro e per chiedere la stabilizzazione di tutti i precari e naturalmente come unione sindacale di base stiamo costruendo lo sciopero generale da fare a giugno. Ci sembrava importante oggi occupare questa strada e gli uffici al 29esimo piano della Commissione Nazionale di Expo 2015. Per quanto riguarda tutto l'apparato delle tangenti che oramai qua in Lombardia sta riempendo i carceri, San Vittorio in primis, di politici e faccendieri. Noi vogliamo farla finita con questa modalità di fare politica all'interno della nostra regione, chiediamo una politica diversa, più trasparente, più pulita e naturalmente assolutamente la chiusura di Expo 2015. Ma da qui noi continuiamo a ripetere, se non viene su la stampa e non viene permesso l'incontro con la stampa, noi di qui non ci muoviamo. Ci fate un'altra carrellata della sala? Sì, è una bellissima sala, bella in bandiera rossa. Ce la fate vedere? Ce la fate vedere? Piano, piano, piano. Piano, ai lenti. Questa è la stampa. Puoi vedere la banconota questa bella? Pronto e retro? Piano, 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 Grazie.